Clamoroso ragazzi, clamoroso, ragazzi clamoroso, non ci credo, non ci credo, non ci credo, è qualcosa di incredibile Farò scatenare il web, farò scatenare il web, perché farò scatenare il web ragazzi? Perché? Perché farò scatenare il web? Perché farò scatenare il web? Perché? Cos'è successo? Cos'è successo buffone? Abbiamo sempre parlato così, abbiamo sempre parlato così, giusto? Eh? Io e te? Perché quando faccio un video che riguarda te Mauro Riccardi, io non riesco a guardarti in faccia E allora devo, devo, devo nascondermi, devo nascondermi, faccio passaparola, metto la maglia del Milan davanti ai miei occhi E non ti voglio guardare, non ti voglio, non la sto indossando, eh, non la sto indossando Clamoroso, 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 Vandanara all'accordo con Mauro Riccardi per andare, cioè, scusate, ho sbagliato le parole Vandanara all'accordo con il Milan per Mauro Riccardi al Milan Quindi cos'è successo? Cos'è successo? Se ne stava già parlando, quindi è qualcosa di clamoroso Icardi al Milan, mamma mia ragazzi, Icardi al Milan Icardi... Mamma mia Sarà un nostro avversario, sarà un nostro avversario in Serie A Mauro Riccardi Vieni, 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 vieni Mauro, vieni, 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 su, su Mauro, vieni, vieni, vieni in Serie A Vieni, 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 ti stiamo aspettando, ti stiamo aspettando, ti stiamo aspettando Mauro Ti stiamo aspettando Mauro, ti stiamo aspettando, ti stiamo aspettando, vieni, vieni, vieni siamo pronti siamo pronti mauro siamo pronti siamo pronti siamo pronti delinguente 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 siamo pronti siamo pronti forza mauro forza forza vediamo 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 allora sicuramente il milan è una squadra in crescita una squadra che come ho detto già negli scorsi video sta crescendo come squadra sta crescendo come progetto e sta facendo molto bene ed è anche continuo nei risultati vediamo mauro icardi dove 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 porterà questo milan vediamo mauro icardi dove dove dico dove porterà questo milan voglio proprio vedere sono proprio curioso sono proprio curioso allora icardi se tu vai al milan se tu vai al milan e alzi un trofeo con il milan e alzi un trofeo con il milan mi rimangio tutto quello che ho detto però sei un traditore però sei un traditore non perché vai al milan perché con l'inter ti sei comportato male ricordate ricordate lo con lo che hai fatto nell'inter e io e io adesso vedere questa cosa che tu te ne vai al milan non mi roda il culo anzi mi fa piacere mi fa piacere perché ti voglio come avversario ti voglio ti voglio rompere il culo come avversario ti voglio rompere il culo come avversario ti voglio umiliare caro mauro icardi ti voglio umiliare sono pronto sono pronto allora ragazzi quindi in descrizione di 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 pochi minuti fa praticamente è uscita una notizia su instagram dove diceva che vandanara aveva trovato l'accordo con il milan per un trasferimento in queste ore molto possibile ormai è stato trovato l'accordo quindi molto probabilmente icardi andrà al milan e io sono pronto e io sono pronto ad aspettarti e a massa